Musica Rappresentanti delle istituzioni comunitarie, esponenti del mondo produttivo e studenti a confronto a Roma sul futuro dell'Europa. L'incognita della Brexit pesa sulle prospettive dell'economia. Inazio Ingrao Quali sono gli equilibri e le prospettive delle nuove istituzioni europee nate dalle elezioni del maggio scorso, in particolare la commissione guidata da Ursula von der Leyen? Sono gli interrogativi a cui ha cercato di rispondere How can we govern Europe, appuntamento annuale dedicato agli affari europei, dove esponenti di primo piano delle istituzioni nazionali e comunitarie si confrontano con rappresentanti del mondo produttivo e coinvolgono studenti delle scuole superiori. Al centro del dibattito il tema dell'innovazione con cui deve misurarsi anche la politica agricola comunitaria, chiamata ad essere sempre più tecnologica ed efficiente. Pesa l'incognita della Brexit, difficile prevedere cosa accadrà ai fondi strutturali e alla politica agricola dopo l'uscita della Gran Bretagna. La Green Economy rappresenta invece una grande opportunità. Secondo gli esperti la gestione del riscaldamento globale costa l'1% del pilo ogni anno, ma l'inerzia e la mancata gestione può costare assai di più, dal 5 al 20% del prodotto interno lordo.